Buonasera a tutti, inizio a dire che da vicino noi abbiamo parlato intensamente con il presidente del Consiglio per stilare il ruolo e il Consiglio comunale, quindi voglio rispondere a chi diceva che è stato l'aiuto di tutti i stati e di tutti i partiti per stilare questo domenico e questo è il testimone. Quindi voglio dire che prima con l'innovità del valore, vediamo quello che è il cambiamento della nostra città, quindi il cambiamento si va all'intervento delle regole, però è anche quello che noi chiediamo in una democrazia, l'assidio, che è sicuramente di raccomandare sulle cose. Io rispondo a Massimo Giudice che accognerà un'intervento della nostra città, l'assidio, che è un'intervento della nostra città, l'assidio mi comporta il fatto di metterci presente, quindi se vado avanti, tu come fai? l'assidio mi comporta il fatto di metterci presente, e io penso che le persone che tu rimanono in atti da parte, c'è dentro il tuo gruppo di proporzioni, che hai significato enormemente, penso che abbiano fatto quello che tu scegli, hanno fatto l'intervento dell'intervento, di metterci presente, al di là di un bene o un apporto per questo riguardo. Quindi, detto questo, non mi ricordo che noi siamo convinti di andare sempre in fondo, tanto è vero che abbiamo votato senza fatto cose che tu prima ci legionavamo, e voglio ricordare che non è vero che il massimo che tu discime, che è nato lo scadascio per il gestione di presenza, politica, come ci faceva sapere prima in grande commission, come ogatore, non valore, che non fa bene, proprio una cosa vero. Però ecco, ti devi ricordare, devi analizzare quello che sono i componenti di questo consiglio comunale, che saranno due o tre persone, forse, che hanno bisogno della giustiziatela e del gestore di presenza. Tutti i resti, mi sembra che nessuno ha bisogno di avere tre certificazioni, quindi stiamo parlando di una miglioranza che non conta del discorso della spesa comune, quindi non sono legati soltanto al discorso del risultato economico, ma sono persone che valutano veramente una parte integrante di quello che è la conoscenza del comune, ovviamente la leggera del senso. Ciò che qui abbiamo pensato a questo, è il suo invadabile, il suo comune, il tempo che ci sono problemi, noi era l'ultimo, l'ultimo contempo, l'era di lui, abbiamo visto anche qualche cosa, abbiamo visto un documento presentato da Lomobiette, porta giù su una nuova città, puoi continuare a richiedere, dove dicevano, io sono un po' di Faso, io non ho visto i tuoi operandi, io non ho visto i tuoi operandi, Quindi, dicevo, sono cinque partiti e c'è quella cosa più importante, che il partito maggiore della società di categoria che è là ha presentato lo stesso documento che hanno presentato che sono cinque partiti. Quindi io voglio capire che fronte ad una richiesta di partiti, sei partiti che hanno proposto il cambiamento dell'ordine del soffro, io penso che sicuramente voi potete anche di quello che stiamo dicendo, e votate sicuramente per quello che è il rispondizio, si è chiesto prima, così. Inoltre, allora, volevo dire, per quanto riguarda invece il rispondere per un attimo passo, come dicevo, l'assessore cascino in efezio, non è vero, questo è il secondo passo, anche perché l'assessore cascino è stato tirato in caosso da parte dei sindacali o dei comuni uniti che hanno chiesto spiegazioni e chi chiude un assessore in merito vuole tornare a te, la fiducia si fa male, la fiducia si fa male, la fiducia si fa male, ma io penso che questo non c'è, la parte nostra non c'è, assolutamente, ecco, capita come queste delle cose, in ogni giorno, in tante volte, in un caffè e in un tasso a fare, noi avevamo utilizzato, ok, io ho sentito parole veramente un po' così, all'inizio di questo consiglio, dove dicevano la solidarietà, lì con il dolore della gente, l'indicità e il risotto, ragazzi, ciò c'è bisogno di lavorare, facciamo sempre tutto e facciamo le commissioni, facciamo sempre le commissioni, facciamo sempre le commissioni, e infatti questo è un po' così, facciamo le commissioni, facciamo sempre le commissioni, facciamo sempre le commissioni, grazie grazie